Il centro lago e le zone montane torneranno con Cuomo, l'alto lago invece rimarrà con la TS della montagna. La regione prosegue l'analisi della divisione territoriale legata alla riforma sanitaria e se i sindaci della Tremezzina e delle Valli hanno ottenuto la promessa di una retromarcia, oggi i primi cittadini dei 17 comuni che vanno da Solico a Cremia hanno chiesto e tenuto invece di rimanere nella TS della montagna. È una richiesta complementare e non alternativa a quella presentata dai comuni del Mediolago e della Vallintelvi che hanno chiesto invece di essere riportati con Cuomo, sottolinea il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Due richieste che possono essere entrambe esaudite senza dividere il territorio e che consentono il mantenimento in alcuni casi addirittura al miglioramento del livello di efficienza dei servizi sociosanitari. I sindaci, guidati dal primo cittadino di Dongo, Mauro Robba, hanno incontrato Fermi e l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera. Nessuna contrarietà sul fatto che l'ospedale di menaggio venga ricondotto all'interno della SST Lariana come richiesto anche dai sindaci del Mediolago di Cuomo e della Vallintelvi. Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha confermato l'auspicio che venga quanto prima istituito un tavolo di lavoro con la rappresentanza dei comuni dell'attuale distretto del Medio Altolario per l'elaborazione di un progetto che garantisca la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ospedale di menaggio e che monitori costantemente l'attuazione della riforma sociosanitaria sul territorio.